salve sono della pena roberto della cappa triatica e ci troviamo una grumeto in questa determinata fase consigliamo vista la presenza di micro carenze il green mix zeta a livello radicale consigliamo visto che andiamo verso la stagione estiva con aumento della salinità nei terreni anche per l'acqua consigliamo l'endosar questo prodotto permette grazie alla sua composizione di combattere bene sia la salinità sia la presenza del sodio nelle acque che noi andremo a utilizzare sempre a livello fogliare consigliamo anche l'actimol 80 per la presenza sia del molibdeno del magnesio fondamentali per la fotosintesi clorofiliana vi ringrazio di tutto al prossimo video e per altre informazioni andate o su per fare l'albero punto it o su adriatica punto